Due giorni intensi di incontri per il presidente d'Albania Bayran Begai, incontri che puntano a rafforzare la collaborazione istituzionale fra la regione con il più alto numero di comunità arbresci in Italia, 33 su 50, e una nazione che guarda la Calabria come porta verso la comunità europea. È iniziata dalla cittadella regionale di Catanzaro la visita del presidente della Repubblica Albanese, accolto in aeroporto dall'assessore alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo Begai, ha poi incontrato il governatore Roberto Chiuto nella sede della regione, presenti numerosi rappresentanti delle comunità arbresci. Noi attribuiamo grande importanza alla visita ufficiale del presidente albanese in Calabria, sia perché ha visitato il mondo arbresci verso il quale noi vogliamo realizzare un progetto di tutela, valorizzazione, ma anche di implementazione delle azioni sul territorio. Sia perché nel colloquio con il presidente Chiuto si è ragionato di un miglioramento dei rapporti socio-economici, sia per quanto attiene alle questioni di natura sanitaria, ad esempio una collaborazione fra le università, sia per quanto attiene ad altre questioni che riguardano il mondo economico ed imprenditoriale della nostra regione. Ben presto ci sarà una nostra visita ufficiale in Albania con una missione guidata dal presidente Chiuto nella quale ci saranno anche come protagonisti fondamentali imprenditori calabresi.